Il tema degli sgambatoi è un patrimonio importante del comune di Pesaro che però si sta man mano impoverendo, si sta impoverendo per tutta una serie di criticità e soprattutto per una mancata programmazione. La proposta di oggi è quella di presentare un documento e un report di un lavoro che abbiamo fatto per invertire la tendenza, quindi per passare da un impoverimento a una vera e propria serie di investimenti e una serie di programmazioni. Le criticità sono di tutti i tipi, dalle buche per cui i cani escono dallo sgambatoio e si mettono anche in situazioni di pericolo, al fatto che mancano i regolamenti sulle porte di accesso con tutte le problematiche anche legate poi ai comportamenti che ci sono all'interno di questi luoghi. Poi mancano anche una serie di altri servizi più impegnativi e quindi quello che chiediamo è prima di tutto di una messa in sicurezza delle cose principali, che quindi sono le buche nelle reti, che sono l'ordinaria manutenzione e che sono tutto il tema della cartellonistica. E poi una programmazione per delle opere più importanti e più impegnative, quali il punto acqua, che in molti sgambatoi manca, un punto luce, molti di questi sono bui e la sera diventano anche abbastanza pericolosi o comunque non di facile frequentazione, una tettoia, questa è una cosa molto richiesta da chi li frequenta ed è presente soltanto in un paio di sgambatoi perché le persone di quel quartiere si sono attivate e si sono messe all'opera. Questo è un aspetto importante anche da segnalare, cioè in tanti sgambatoi le persone che li frequentano si sono attivate e cooperano al buon mantenimento e al buon utilizzo e appunto per dare valore, per dare anche seguito all'impegno di queste persone è importante che anche l'amministrazione faccia la sua parte, quindi col documento che presentiamo oggi, un documento di 40 pagine in cui sono andato a fare la mappatura di tutti gli sgambatoi, uno per uno, segnando in ciascuno ogni criticità, ogni mancanza e in ciascuno anche le proposte concrete di miglioramento. Con questo documento e con questo lavoro se la giunta e l'amministrazione si mettono all'opera si può fare di questo tema un grande valore aggiunto. Sul territorio abbiamo ben 15 sgambatoi, non dobbiamo arretrare, non dobbiamo fare che questi si impoveriscano ma dobbiamo rilanciare. Lo sgambatoio è un luogo importantissimo per la socializzazione del cane ma anche poi per tutte le persone che lo frequentano, diventano dei veri e propri luoghi di ritrovo. Tutta questa dinamica e tutto questo valore aggiunto che possono essere rischia di impoverirsi e di venire meno.